... del fotovoltaico, parleremo del personale, parleremo di tutto quello che riguarda il bilancio comunale, tutto quello che riguarda la vita, gli intervisti, dei servizi sociali, se dare più attenzione, non lo so, ai bambini. Se voi avete notato benissimo che dal 2001 ad oggi, un'attività che è stata di grande interesse, c'è stata di grande delisione, è stata specialmente per i bambini, nel periodo estivo, con la cucina, con l'intrattenimento. Poi quest'anno faremo, perché c'è la piscina che inizierà, mi chiedo che poi il tutto si riduce anche a quello che è la rispondibilità. Ecco perché, in questa avventura che faremo, io avrò la bondà anche di partecipare, ma non è che io dovrò parlare.